Attacco d'artiglieria imminente! Attacco d'artiglieria! Coordinate! Carri! Sei! Eliminare! Carri! Sei! Ricevuto! Aprile il fuoco! Avanzare! 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 Anche in to the left! Ragionette! Elas forces have kept in a row! It must not be golpiti! Rocko! Rocko! Colpo! Bersaglio colpito! Rocko! Colpo di scogato! Colpito! Rocko! Bersaglio colpito! Attacco d'artiglieria! Coordinate! Delta! 3! Eliminare! Delta! 3! Ricevuto! Aprile il fuoco! Si ripetono! 1-0! 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 Grazie! 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 Attack the A-point. Attention to the map! The life forces have captured a zone. Last thing down! Forbito! The life forces have captured a zone. LR-4 have captured a zone. H-geoning arm. LR-4 G-1 D-6 LR-5 LR-6 LR-6 LR-5 LR-5 T-L-6 LR-6 At the middle of EA-point! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.